Benedetta Giudice, tre casi di studio per questo modello che state portando avanti nel centro R3 del Politecnico di Torino. Diversi i piani, diversi i rischi che state mettendo sul piatto. Cosa vorrà venire fuori da questo studio? Sì, attraverso questi tre casi di studio stiamo cercando di puntare l'attenzione non soltanto sui singoli edifici del patrimonio culturale ecclesiastico, ma si vuole integrare tutta questa categorizzazione di beni con il contesto territoriale nel quale sono inclusi. Quindi questa scelta anche di tre casi molto diversi rispetto anche ai rischi al quale sono soggetti porterà poi alla sistematizzazione di un manuale di orientamento che potrà aiutare anche la redazione di progetti di riuso e valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico.